Vangelo del giorno 29 settembre 2022, festa dei Santi Arcangeli Gabriele, Raffaele e Michele. In una sola data la Chiesa ci invita a celebrare i Santi Arcangeli e poi fra qualche giorno, il 2 ottobre, ci invita a celebrare invece gli Angeli Custodi. Addirittura la Chiesa ci dona due date per ricordarci che la bontà di Dio ha messo sul nostro cammino la figura di esseri spirituali che hanno un compito preciso, quello di aiutarci, sorreggerci, darci la forza, illuminarci, salvarci dai pericoli che ci circondano e soprattutto mettersi in mezzo a noi nella battaglia tra il demonio e noi. Allora, ascoltiamo cosa ci insegna il Vangelo di questo giorno. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui Ecco davvero un'israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò come mi conosci? Gli rispose Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di Fichi. Gli replicò Natanaele, rabbì tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di Fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse, in verità, in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Quando ero in seminario c'era un docente durante il corso di formazione che ci diceva sempre che gli angeli sono un genere letterario e quindi non esistono. Io ci restavo tanto male perché dell'angelo custode ne ero innamorato, e lo sono tuttora, e perché continuamente c'era qualcuno che mi parlava dell'angelo custode e mi invitava a pregarlo sempre. E mi chiedevo, come fa questo prete a salire sull'altare, dove sull'altare nel momento della consacrazione salgono e scendono gli angeli a tenere in mano il corpo di Cristo. E poi lui che dice di sapere la parola di Dio, le cose di Dio, perché non sa che nella scrittura gli angeli sono esseri veri, che esistono. Io mi facevo tutti questi ragionamenti e pensavo all'angelo Raffaele che ha accompagnato via. Ecco, il Signore ci ha dato gli angeli perché ci accompagnino durante l'esistenza terrena. Ma perché dire che non esistono? Perché non pregarli? Perché non ricordarci che loro ci vengono dati per che la nostra vita sia custodita dal male? Padre Pio, per esempio, diceva sempre Mandatemi il vostro angelo custode Perché potesse parlare con lui, no? Perché non poteva essere di tutti in un solo momento. Ma l'angelo custode sapeva come comunicare. E allora, ecco, la festa di oggi ci convinca non solo della grandezza degli angeli, ma soprattutto sapere a chi noi ci possiamo rivolgere. Michele ci dice che è il guerriero che lotta. Ma perché? Voi sapete lottare contro il demonio? Se non vi assiste la grazia di Dio sapete lottare contro la perfidia di Satana? E allora Michele ci può aiutare. Gabriele ci dice che dobbiamo essere annunciatori del Vangelo. Noi con le nostre sole forze possiamo essere capaci di dire una sola parola di grazia di Dio? E allora invochiamo Gabriele. E Raffaele ci dice che abbiamo bisogno di essere protetti. Anche nel corpo, anche nell'integrità del corpo, che si può ammalare. E allora lo invochiamo. Gli angeli sono nostri amici. Non dimenticatevelo mai. Buona festa dei Santi Arcangeli a tutti voi.